Tensione a Roma in piazza San Silvestro dove si è svolta la manifestazione Io Apro. Circa 300 ristoratori, commercianti, autonomi e partite IVA hanno protestato contro le chiusure legate all'emergenza Covid-19. L'iniziativa era stata annunciata in piazza Montecitorio ma non era autorizzata dalla questura. Così i manifestanti si sono dati appuntamento in piazza San Silvestro a pochi passi. Un gruppo di ragazzi ha provato a dirigersi verso la camera accendendo fumogini ma è stato subito bloccato dagli agenti. C'è stato anche qualche momento di tensione con lancio di petardi e oggetti verso gli agenti in tenuta antisommossa. La gran parte dei manifestanti è rimasta pacificamente in piazza San Silvestro dove ha urlato slogan contro il governo. Siamo imprenditori e non siamo interessati a fare guerrigli urbani, a questo deve essere fondamentale come concetto. Noi dovremmo essere nelle nostre aziende a fare il nostro lavoro. Silvio fa il cioccolato, io faccio il panificatore pasticcere ma non ci possiamo permettere di restare chiusi ulteriormente senza essere sostenuti.